Buona domenica a tutti, sapete che bella idea ho avuto oggi? Di rovinarmela con una nuova Delta Plano Challenge, visto che settimana scorsa Mr. Banana c'era quasi riuscito. Mi raccomando ragazzi, un bel pollicione in su, commentate e iscrivetevi, tirate la campanellina di codice creatore Stefano in negozio, io vi auguro una buona visione. Buona domenica a tutti, sapete che bella idea ho avuto il video di Fortnite, guardate il nostro armadietto, siamo carichi per una nuovissima Delta Plano Challenge, ci proveremo a portarsela a casa, impegniamoci con il nuovo personaggio che è uscito proprio oggi, vediamo un po' che cosa succede. Sarà la volta buona in cui ce la facciamo? Forse. Prima di atterrare in qualsiasi posto dovremo scoprire quale Delta Plano abbiamo, beh ovviamente è epico mi pare più che giusto, grazie, siete veramente molto gentili. Per affrontare un Delta Plano epico che cos'è che si può fare? Innanzitutto andare laggiù in fondo, Gabo Town, perché nell'avamposto dove volevo atterrare ci sono già delle persone, ovviamente. Sarà semplice? No, per niente, sarà molto complicato. Un fucile a pompa o una R? Bene, grazie, non li posso prendere, sono del colore sbagliato. Dammi qualcosa di epico qua dentro, fai il bravo, un'altra arma verde. Almeno 100 di scudo ce li abbiamo, non possiamo combattere le persone ma possiamo difenderci. Dai cassa, fai la brava. Altra cassa, eccola qua l'arma viola, pompa. Porca miseria se devastiamo tutti. Manca solo una K e siamo a cavallo. Cecchino, peccato. Alla ricerca di un fucile d'assalto, anche se in realtà potrei già pushare chiunque io voglia, un fucile a pompa. Vorrà dire che uccideremo qualcuno e gliela ruberemo, che problema c'è? Vuoi dirmi che quest'avamposto è stato saccheggiato ma non hanno preso le casse. Dammi un bello scar, un altro Chuck Jagger. Ma basta! Obiettivo pushare tutti. Andiamo. Rivo dal cielo, ho visto una persona esattamente là, quindi direi di tornare indietro in qualche modo. Oh, un'arma. Dentro casa il nostro amichetto. Cosa stava facendo? Oh no, giusto per curiosità, io volevo capire. Era uno che non ci incastrava molto in questo gioco, vabbè. Fermo lì che quella pistolina la voglio io, eh. Non t'azzardare. Sta salendo. Verso l'infinito e oltre. Eh no, bello mio. Grazie. Dov'è finito? Non c'è più? Laggiù in fondo? Vabbè, intanto proviamo a uccidere. Bam! Eh vabbè. Dobbiamo preoccuparci di due persone, non di una. Ok, la ira è andermia, ossia. Che pizza. Non è male questo che è a giocare, sarà duro ucciderlo. Maledizione! Non l'ho mai preso, ma che sta succedendo? Ce la siamo giocata molto male. Più che altro pushare una persona che ha tutto. Fa finire così. Scopriremo subito di che deltaplano si tratta, così decidiamo dove atterrare. Blu. Blu è fattibile, secondo me. Potremmo andarcene anche a Parco Pacifico. Ci sono un po' di persone. Sarebbe davvero bello vedere subito un'arma blu dall'alto. E invece dovremo andare a cercarcela probabilmente. Arma blu, ti prego. Sì, 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 sì. Uno l'abbiamo ucciso. Eccola che arriva. Altra pozione. Uno sta attirando le cringers. Sono già morti. Credo che mi stia ancora cercando. Vabbè, non mi interessa. Noi siamo scappati. Eccolo. 60 danni, non male. Cosa? Oh mio Dio. Quanto è difficile sta sfida, raga. Cioè, quando uno ha un fucile a pompare non puoi fare niente. Terzo tentativo. Vediamo un po' che cosa abbiamo subito. Polpo, di nuovo. Impossibile. È impossibile. Vabbè, ce ne andiamo a sanno i steps allora. Abbiamo il polpo. Personaggio nuovo. Solo armi viola. Per piacere. Fatemi questo favore. Datemi un'arma viola. Dai che siamo fortunati, me lo sento. Il Barret leggendario. Due trappole sicuramente potrebbero essere interessanti. Però il Barret leggendario non ha molto senso ed esistere. Visto che quando esce la delta, però non c'è legge leggendaria. Non esce mai niente. Ti prego, ti prego, ti prego. Sì, sì, sì. La mappa non mi serve a niente, tanto sono solo armi leggendaria. Abbiamo anche qualcos'altro. Oh sì, due pistole. Laggiù c'è un tipo. Boom. Doppio 41. Non ha molta vita. Ho perso tutto lo scudo. Beh, ovviamente. Cos'è che trovo adesso? Oh, guarda quello. Non ci credo mai. È diventato un cespuglio. Il cespuglio ti copre dai danni che subisci. Che buffa è sta cosa? Ok, l'abbiamo ucciso per fortuna. Tac blu. Per ricordarvi che prima era la delta per la challenge blu, eh. Il sacro fucile a pompa doveva essere portato in salvo. Un altro cecchino leggendario. Le probabilità quante sono? Dai, ditemi. Ditemi quali sono le probabilità. Volare Delta planare Ho bisogno di un fucile a pompa E se ce l'avete anche un assalto Per vincere Grazie anche un B90 Ehi Dove potremmo trovare delle armi? Forse qua sotto? Che ne so, magari. Magari qua c'è un fucile a pompa per noi? Non ancora. Usci la pompa blu però ovviamente te lo danno sempre Sìììì brilliantioso Possiamo uccidere tutti adesso, tutti C'è qualcuno finalmente da uccidere Sì, 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 sì Ok Scar leggendario Pi90 leggendario Non posso prendere nulla Che bello Perlomeno aveva il Chag Jag Non possiamo tornare al massimo della vita Perlomeno L'unica arma viola Che aveva era il pompa E ce l'abbiamo già Con fucile a pompa Ovviamente è tutta un'altra storia Cioè si possono fare Delle cose incredibili Cioè qualcuno qua sotto Raga Mi aggancio Mi aggancio Muori grazie One hit Cioè gli ho preso la trappola Ne mi faccio Sto gioco è scorretto Sto gioco non ha senso esistere Tutti con le armi leggendarie Tutti con tutto Questo doveva crepare dalla trappola Si è sopravvissuto Oh mio dio Me l'hanno giocata bene E poi mi sono rovinato da solo Perché non mi sono sparato gli scudi E poi sono andata a cercarlo Perché devo sempre fare tutto di fretta Due viola e un blu C'è anche un deltaplano normale No giusto Anche leggendario Ma vai Mi prendi in giro Non troveremo mai armi leggendari ragazzi Mai e poi mai C'è un lama là sotto Il lama è molto buono Andiamo a reperire il prima possibile Ma abbiamo bisogno di un'arma Leggendaria per giunta Oh my god Incredibile Abbiamo le armi leggendari ragazzi Adesso vado a prendere il lama E vaffan cuore Ce ne andiamo di qua subito Sembra vero Giuro che non mi sembra vero La prima cosa da recuperare È il lama Dopodiché Ci spareremo con il rift to go Alla ricerca ovviamente Delle armi leggendarie Che sono tutte insieme al tesoro Sempre che il lama Non l'abbia già preso qualcuno Dobbiamo andare verso di là Bene Il lama c'è Che bello Possiamo recuperare I grave errori di prima Con questa mappa del tesoro Che ammazzano Se non mi sbrigo Devo andarmene via Adesso Andiamo via Andiamo via Il problema è che non ho visto Di preciso dove fosse il tesoro Perché hanno iniziato a spararmi Quindi ora Dobbiamo un attimo atterrare Perché si vede così male Aiuto Non vedo niente Laggiù in fondo Porca miseria Che sfiga Mi cecchinano di sicuro Mi cecchinano Mi fanno fuori Perché ho un'arma verde Questa non la posso usare Via Leva 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 Tesoro trovato Sì Tutte armi leggendari Ragazzi Non c'è verso di sbagliare Oh sì Scar e pompa Che bello Ragazzi Questa partita è già vinta Ora che abbiamo trovato il tesoro Siamo essenzialmente Immortali Abbiamo il mondo Ragazzi Abbiamo tutto Sono in due laggiù Un'idea Andiamo così Aggressivi L'ho deciso Sì 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 Così No 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 Non va bene 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 Help No 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 Sta tosta eh Solo grazie al lama Non si fa stepni questo eh Siete cattivi Eccolo che cade Flop È morto È morto È morto da caduta Quanto sto godendo raga Non ne avete un'idea Abbiamo fatto cadere Scoppiare male E delta plano challenge Mi entusiasmano Sempre particolarmente Però vincere una delta plano challenge Grazie ad un lama Sarebbe meraviglioso Dai che la chiudiamo in bellezza Ma lo sento Oggi siamo fortunati Che culetto c'ha la nostra amica qua Ah non mi interessa Ho appena visto il pin 90 Abbiamo praticamente tutto quello che ci serve Andiamo 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 Via 70 danni Non è giusto Non è giusto raga Non è possibile Mi ha rovinato la partita 30 di vita Non è tra un colpo di pin 90 50 di fucile a pompa ragazzi Basta l'ultima e chiudiamo Cioè stavo per vincerla Grazie al lama Davvero Peccato per la partita di prima Ragazzi L'abbiamo rovinata Perché tipo doveva crepare Mai una gioia Mai una gioia Vediamo un po' Eh beh Ti faremo scontato Che non uscisse un delta plano leggendario Un'altra volta Parca miseria Siamo morti Mortissimi Siamo mortissimi Ma è nada De nada De nada De nada De nada Eccolo lì il pin 90 epico Che ora non possiamo più usarlo Dammi la mappa E il tesoro O un'arma Un'arma qualsiasi Finita Ma sapete che questo delta plano Che ho appena trovato Potrebbe salvarmi la vita Per quale motivo Per questo motivo Via Andiamo a andarcene Tutututututututu O la mappa È il tesoro O un'arma leggendaria Scegli tu O niente Ovviamente A volte va di culo A volte va così Questa è la delta plano challenge Eh che devo fare Vado giusto a stare a un salutino Ciao amici Ciao Decidetevi pure anche per me Che io non ho armi Oddio c'è uno qua sotto Via 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 Che bello però così Possiamo fare quello che ci pare Non ci ammazza nessuno Wuhu Altro giro Altra corsa Altra cassa Altro niente P90 Epico Ovviamente Capite cosa vuol dire Quando dico mai una gioia Questo vuol dire mai una gioia L'aildrop ci sono Le armi leggende L'hanno aperto Bene L'altro allora Io sono atterrato a picco polare La prima arma l'ho trovata A paradise palms Andiamo Andiamo Lancia razzi O così O così Devo aspettare che si ammazzino Capite Bella lì Eccolo Esplodi male Sì Che bello Due kill di lancia missi Perché non possiamo fare altro Ha pur sempre due kill Avete ragione Grande ballerina Grande così Mappa del teso Serio? Dov'è? Dov'è? Fuori safe Faffan gala va Arrivando un altro airdrop Quella potrebbe essere l'arma Che ci fa vincere davvero eh Puzza di trappola ma non mi interessa Fin 90 Sì Fin 90 Andiamo Never back down step Never back down È tosta ragazzi Ma ci sto credendo fino alla fine Come vedete Quella è una roba leggendaria Che sta rotolando Sbaglio Sta cadendo tutto Oddio È un mezzo miracolo È un mezzo miracolo Ah No 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 Sta continuando a sparare Dobbiamo anche uno scara adesso Ovviamente il fucile a pompa Non ce l'abbiamo a sti cavoli È là sotto Bello lì Implosissimo C'era un alt k C'era un botto di roba Posso perdere un po' di vita Ok No No Aiuto L'hanno tirato giù eh Stanno combattendo Vai vai che è la mia occasione Potrei intervenire O potrei farmi beatamente Gli affaracci miei Mi farò gli affaracci miei Dov'è la safe Dimmi di qua Dimmi di qua Dimmi È di qua la safe Uno contro uno Porca miseria La ci diamo in bellezza È difficile eh Non abbiamo neanche un fucile a pompa Potremmo morire da un momento all'altro Dove fa Vabbè è praticamente morto Dai raga C'è il Barrett lui eh Quando creperai adesso Io godrò tantissimo Tanto Oh mio Dio no A morti raga No 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 Non me la Dai amici Questo video di oggi Termina qua La domenica Forse è meglio non provare a fare la deltaplano challenge Spero che vi sia piaciuto Lasciate un bel mi piace Commentate Iscrivete Attuate la campanellina Io vi saluto Qua se è piaciuto Sto rosicando dentro in una maniera Non avete un'idea Cioè Non è possibile Non vinceremo mai una deltaplano challenge Mai più Per lo meno Grazie a tutti Ciao Grazie a tutti Grazie a tutti.